Visto Loiarro, finalmente avevano questi punti all'ESG di Falco, ci fanno l'analisi della partita e ci dice finalmente che cosa è ritornato a fare questo l'ESG di Falco. Sì, finalmente abbiamo fatto i tre punti, abbiamo fatto una buonissima partita, anche nelle precedenti quattro partite abbiamo fatto bene, non avevamo raccolto per quanto siamo in atto. Anche a San Mauro, una buonissima prestazione. Siamo sulla buona strada, speriamo di uscire velocemente da questa zona e dai play-out, non meritiamo questa classifica, siamo una buonissima squadra e proveremo già domenica prossima contro il Petit, andare fuori casa e portare risultati perché per ora fuori casa non abbiamo raccolto nemmeno un punto. Questo giro di Falco ha cambiato marcia, quindi che cosa vuole organizzare per le prossime partite? Ha cambiato marcia, vediamo, è rientrato finalmente il difensore centrale dopo qualche mese che era fuori e si è visto un po' di solidità un pochino in più, ci siamo aggiustati un pochino dietro, quindi tornando giocatori nei propri ruoli si è visto qualcosa di migliore. Dobbiamo continuare su questa strada, tutto qua. Possiamo dire allora che l'USG di Falco è ritornato? È ritornato, speriamo.